Prima aspetta però prima di iniziare voglio almeno 10.000 like per un altro video così per un'altra challenge Iscrivetevi al canale e attivate la campanellina così arriviamo a 410.000 iscritti Ciao ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video Oggi sto per fare una cosa quasi pazza perché ho deciso di fare una challenge da 24 ore Ovvero per 24 ore di fila devo ascoltare un balleto di Fortnite Che tra l'altro a me piace molto quindi ho deciso di farlo anche perché mi piace perché sennò no Sentilo per 24 ore il balletto ballo planetario quello che fa Sono esattamente le 9.09 di domenica 2 agosto e si parte con la challenge da 24 ore Spero di farcela più che altro io domani mattina fino alle 9.10 devo sentire questa canzone qui Meno male che c'è questo video qui di un'ora il primo praticamente Quindi parte la challenge da 24 ore 3 2 1 Buona fortuna No che cazzo è la pubblicità ma mi scusi No che cazzo è la pubblicità ma mi scusate Che cazzo mi metto a fare cuffie Ragazzi sono le 12 e 24 Ora vado a mangiare Visto che prima hanno suonato i nonni Sono venuti i nonni visto che è domenica Non posso tenere questo qui durante il pranzo Quindi appena finisco di pranzare Torno qui Inserisco Mi metto nel letto Mi faccio un riposino Non so come farò a dormire un paio d'ore Con sto coso che mi suona Però va bene così Vediamo tra poco Ragazzi sono le 14 e 25 Non si vede mai nella vita Penso di sì Ho appena finito di pranzare I miei nonni se ne sono andati Quindi posso riposare un po' Mi alzerò alle 16 e 30 17 Poi giocherò un po' Quando mi alzerò Quindi ci vediamo Tra poco Non mi riposo ovviamente Non può non mancare La mia amica Onnipotentissima Alexa Buonanotte Buonotte Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora, come penso avete visto, si era stoppata la musica, si era stoppata perché il video dura un'ora. Il video dura un'ora e quindi dopo un'ora e 11 secondi il video si è stoppato e quindi ho avuto un po' di fatica da addormentarmi con sta musica, però ce l'ho fatta. Tanto una volta che dormi comunque mi fa un cacchio. Mi sono alzato alle 17, 16 e 50 e qualcosa, ora sono alle 17 e 20, quindi è passata già una quindicina di minuti, mi sono andato a cercare la faccia, ho già fatto tutto. No, per questo pomeriggio non farò un cacchio, sarò qui con l'iPad a cazzeggiare e basta. Quindi possiamo riprendere l'agonia. Facciamo una cosa. Mi rimetto sul letto. Mi rimetto sul letto ma non dormo. Mi metto sul letto e sto con l'iPad sul letto perché se no... Sono le 20 e 11 sempre domenica a due costo e il fatto che oggi ho detto non vado in live, me la prendo come riposo. Mi è venuta questa idea qua in mente, quindi riposo un par di palle perché sto sentendo da 24 ore questa cazzo di musica. E tanto fatemi rimettere. Ma me la sono prata in memoria. Però devo dire che mi arrendo, mi arrendo perché domani... Vabbè, tolgo un'altra ora, sto parlando. Da 45 ore che ho sta cacchio di musica, domani mattina, ovvero che lunedì, devo andare a scuola guida. Mi devo alzare presto e devo fare pure la live. Quindi non vorrei fare nottata, vorrei tornare in santa pace. Quindi dichiaro ufficialmente che la mia sfida è persa, ok? Sembra facile ma non è figo stare 24 ore a sentire... Se prima mi piaceva questo balletto, ora mi fa schifo. Detto questo, vi ringrazio per aver visto questo video. Spero che vi sia piaciuto, spero che appreziate l'impegno. Anche se non l'ho vinta come challenge, però almeno spero che lo appreziate. Se siete arrivati fino a questo punto, scrivete Forza Air nei commenti senza hashtag. Ci vediamo nei prossimi giorni con una nuova live. Ciao ciao! Ciao ciao!